Staccate tutto, staccate tutto, io non ho veramente aggettivi e parole per descrivere l'Atalanta di questa sera Trovatevi voi un sinonimo, un aggettivo, un qualcosa che possa descrivere l'Atalanta di questa sera Perché a me, non lo so, me ne vengono tanti, mostruosi, incredibili, straordinari, infermabili Non lo so ragazzi, ce ne sarebbero tanti Ci sarebbero tante parole, mentre qui tifosi di lacrime dell'Atalanta Tra l'altro l'Atalanta che vince il suo primo trofeo europeo della sua storia Quindi complimenti, complimenti all'Atalanta, complimenti all'Everkutene Che comunque ragazzi ricordiamo c'era imbattuta da 51 giornate addirittura in Germania Era stata soprannominata alle Neverlosen, ma deve arrendersi stasera a quest'Atalanta ragazzi Lukman, io veramente non so cosa descrivere, cioè non so come veramente descrivere Lukman questa sera Ha fatto tre gol tripletta di Lukman che veramente regala questa coppa all'Atalanta Ma poi c'è uno più bello dell'altro ragazzi, uno più bello dell'altro Io non so perché l'Everkutene sia sceso così in campo Sicuramente la maggior parte, diciamo che per buona parte ciò è dovuto per il modo in cui l'Atalanta è sceso in campo Però per me l'Everkutene è sceso un po' troppo mollo Ha sottovalutato l'Atalanta? Pensava o si è sopravvalutata lei stessa? Non ci sa ragazzi, questo non lo sapremo mai Però sicuramente ragazzi i meriti sono dell'Atalanta Cioè ragazzi è sceso in campo nel primo tempo, ragazzi sembravano 11 cani che correvano Senza fermarsi ragazzi La resistenza che avevano i giocatori dell'Atalanta senza parole Kupmeiners Ragazzi Kupmeiners quanto ha corso questa sera Quanto ha corso Ederson Ian in difesa ragazzi Direi che se voi mettevate un muro di cemento davanti la porta Comunque in difesa Prendeva, cioè faceva peggio di Ian Ragazzi Ian stasera è clamoroso Ma ripeto non c'è nessuno che stasera abbia fatto male Ma Ian Ederson Kupmeiners E Luckman Stasera ragazzi qualcosa di clamoroso Ovviamente man of the match Luckman ragazzi ti fa tripletta e ti fa vincere la partita Ma ragazzi Ederson Clamoroso Kupmeiners ragazzi era dovunque Kupmeiners era dovunque Adesso io vi pongo questa domanda E' anche una piccola provocazione Ditemelo voi Sicuramente Luckman non è una prima punta Luckman non è per niente una prima punta È una seconda punta Gioca scelte volte anche esterno Però se doveste valutarlo come prima punta Dove lo mettereste? Nel senso sarebbe primo? Sarebbe secondo? Sarebbe terzo? Negli attaccanti più forti di Serie A Fatemelo sapere qui sotto con un commento E soprattutto fatemi sapere secondo voi quanto vale Cioè ad oggi dopo questa partita Luckman o quanto vale Fatemelo sapere qui sotto nei commenti Ragazzi il fatto sta che ripeto L'Atalanta stasera era scesa in campo ragazzi Completamente in maniera diversa Rispetto al modo in cui l'abbiamo vista In Coppa Italia Infatti non capisco come non si sia portata a casa Anche la Coppa Italia Ripeto forse erano già con la testa alla finale Ci può anche stare Ragazzi un'Atalanta clamorosa In tutto questo si aprono dei scenari nuovissimi Perché con la vittura dell'Atalanta Ci potrebbe essere la possibilità di vedere una sesta squadra In Champions League Se però l'Atalanta non dovesse Dovesse arrivare quinta Nel senso che Se l'Atalanta Dovesse arrivare quinta In questa stagione Ricordiamoci ragazzi che Le posizioni per Le qualificazioni in Champions Sono le prime cinque Cioè le prime cinque Si qualificano di diritto Alla prossima Champions League L'Atalanta avendo vinto l'Europa League E' matematicamente qualificata Alla Champions League dell'anno prossimo Se l'Atalanta dovesse arrivare quinta Questa stagione Significherebbe che La sesta del campionato nostro Andrebbe in Champions Che in questo caso per adesso è la Roma Se però l'Atalanta dovesse Superare qualcuno Per esempio Bologno Juventus In questo caso Non ci sarebbe La sesta In Champions League Ma si qualificerebbe appunto Le prime cinque Basta Quindi anche i tifosi della Roma Che adesso pregano Che l'Atalanta Possa arrivare quinta Ricordiamoci che l'Atalanta In tutto questo È una partita da recuperare Contro la Fiorentina Quindi ragazzi È molto difficile Secondo me l'Atalanta Ripeto a me La Roma sta simpatica Però secondo me L'Atalanta Nelle ultime due giornate Perché ne mancano una Ma all'Atalanta ancora Gli ne mancano due Secondo me non arriverà quinta Secondo me arriverà almeno quarta Però ripeto ragazzi Faccio i complimenti a questa Atalanta A questo Gasperini A Gasperini Ragazzi che può non piacere A me come carattere Non piace Nel senso Non mi è mai piaciuto Non mi è mai piaciuto Però ragazzi Non possiamo negare Che sia un allenatore incredibile In tutto questo Gasperini con Gravina Ripeto Non possiamo negare Che sia un allenatore Clamoroso Che è in grado Di far diventare Veramente forti Giocatori Normalissimi Durante la partita Non potevano Non ascoltare La telecronaca Jim City ragazzi Jim City che fino a un paio D'anni fa Giocava in serie B Addirittura con una squadra Non mi ricordo con che squadra Addirittura è stato retrocesso In serie C Ragazzi adesso si è giocato Una finale di Europa League Quindi campione d'Europa Con l'Atalanta Questo fa capire Quanto Gasperini È in grado Di rivoluzionare Giocatori Che ripeto Sì Luckman è fortissimo Scamacca Kuhnman Per me sono Veramente dei fuori class Ci sono veramente Dei giocatori incredibili Però per me ci sono Giocatori molto mediocri Come un Zappacosa di turno Un Ruggeri Un Jim City Che ripeto Per me sono giocatori Normalissimi Per me Cioè se Vi faccio questo esempio Se all'Atalanta Non ci fosse Gasperini Io non so Se Ruggeri Gente come Ruggeri Jim City Potrebbero giocare All'Atalanta Cioè secondo me Non renderebbero Però ragazzi È Gasperini Che è in grado Di far rendere Giocatori a livelli Così alti E ripeto Per quanto non può Piacere come persona Magari come modo Di porsi con le altre persone Perché spesso È sempre molto arrogante E tutto Non si può non dire Che sia Un allenatore Clamoroso Parliamo velocemente Dei gol Ragazzi Che fa Luckman Fa un gol Più bello Dell'altro E il primo Su una ribattuta Anticipa Palasios Che stava per spazzare Il pallone Di interno Sotto il set Ragazzi Gol Anche lì Clamoroso È difficilissimo Sembra facile Ma non è per nulla facile Per me ragazzi Il secondo È qualcosa di Cioè veramente bellissimo Uno contro uno Praticamente Ci troviamo Sulla tre quarti Quasi centrale Uno contro uno Contro Il giocatore Del Bayer Leverkusen Non mi ricordo In questo momento Chi è Tunnel Si allarga Poi si porta la palla Sul destro All'angolino 2-0 Ragazzi È già lì Leverkusen Per me Era stecchito E poi invece La chiude sempre Luckman 3-0 Intorno al settantesimo Un tiro ragazzi Sotto al set Qualcosa di Fenomenale Ma ragazzi Veramente Ripeto Voglio sapere la vostra Voglio sapere dove lo mettete In classifica Negli attaccanti Più forti della serie A Ma soprattutto Voglio sapere Quanto secondo voi È il valore di mercato Ad oggi Di Luckman Fatemelo sapere Qui sotto nei commenti Io rinnovo ancora I miei complimenti All'Atalanta Faccio anche i complimenti Al Bayer Leverkusen Ovviamente ragazzi Ci tengo Ci tengo tantissimo Ragazzi Alla vostra iscrizione Quindi se ancora non siete iscritti Iscrivetevi al canale Lasciate un bel like al video Ovviamente Attivate la campanina Così non vi perdete Nessun mio contenuto Noi ci vediamo Con un prossimo video Vi mando un bacione E ciao ragazzi